La mafia era qualcosa che doveva costituire un'arma contro la soprafazione dello Stato quando fu creata. Con l'andare del tempo questa cosa si è deteriorata perché non è stato più necessario lottare contro lo Stato, ma è rimasto il simbolo e quindi sono rimaste le persone e quando sono entrato a far parte, che per me era una curiosità entrare a far parte, mi sono accorto che non c'era niente di tutto quello che pensavo io, ma non si torna indietro dopo il giuramento, non si può tornare indietro. Allora ho fatto un buon viso e cattivo gioco, mi ha dato la possibilità di conoscere delle persone che io anche oggi, pur se qualcuno è morto, stimo, mi ha dato la possibilità di stare di dentro per difendere qualche debole.